Situazione Oneger, eravamo rimasti che in Regione era stato firmato l'accordo per la cassa integrazione, adesso quali sono stati gli ultimi sviluppi? Da quel giorno in Regione, per cui da questo accordo per noi molto importante, gli sviluppi sono stati che il 6 di agosto abbiamo fatto questo accordo, ma già il 23 di agosto, per cui con tempi veramente celeri, il Commissario ha mandato tutta questa documentazione per cui la richiesta per la cassa al Ministero del Lavoro a Roma. Questo che cosa ci permette? Di aver anticipato un minimo di un bese tutte le procedure e anche un ottimismo rispetto anche al proseguo di questa gestione. Il richiamo adesso nostro, per cui come sindacato CCGL UIL alla politica è imperativo perché ci serve di avere un appoggio concreto e non solo a parole dentro in questa gestione. Con i lavoratori, per cui abbiamo deciso proprio ieri che il 16, lunedì 16 alle 10 del mattino in Auditorium di Albino facciamo un'assemblea con tutti i dipendenti Oneghe per spiegare in tutti i dettagli anche quali sono i contesti di chi ha bisogno di staccarsi momentaneamente con la cassa integrazione del cotonificio Oneghe per altre opportunità lavorative. Ma non solo, per cui a tutte le domande che i lavoratori vorranno porci, il 16 per cui è importante ricordarsi la data alle 10 del mattino in Auditorium, abbiamo l'occasione di fare questo ragionamento con i lavoratori e spiegare tutto quello che è necessario nelle condizioni della gestione. L'impegno ai politici naturalmente è chiesto in funzione della risposta che deve dare il Ministero per la richiesta di cassa. Sì, sicuramente questo. Cerchiamo anche di dire ai politici e sollecitare che a quell'assemblea del 16 se qualcuno partecipa e si prende un impegno anche davanti ai lavoratori, credo che sia cosa buona e giusta visto che i lavoratori della Valseriana sono comunque cittadini di questo Paese e hanno anche loro e loro esigenze nell'immediato per avere delle risposte in tempi brevi. Per cui noi siamo molto ottimisti per aver fatto l'accordo ma dobbiamo chiudere questa partita nel modo migliore per cui con l'approvazione al Ministero. Ricordiamo infine quanti sono i lavoratori coinvolti. I lavoratori coinvolti nella procedura ancora ad oggi sono 321 per cui un numero molto consistente e importante sapendo che ci sono anche realtà che hanno bisogno di sostegno ma è chiaro che fa anche un po' d'azione da pilota un'azienda con numero così consistente e questo speriamo che ci permette di gestire anche per gli altri delle procedure in modo più celere.